Pazio al professor Borghi, che ringraziamo di aver deciso di entrare nell'agone della politica, è un'esperienza appassionante e lo vedo appassionato ogni giorno che passa, perché poi il popolo della Lega e non solo, perché qui io veramente vedo anche tanti visi nuovi, sconosciuti a noi della Lega, e questo io penso che sia il risultato più bello e straordinario che potevamo raggiungere con il Basta Euro Tour. Il professor Borghi. Grazie a tutti. Sì, è vero, mi vedi ogni giorno più convinto perché vedo che per merito vostro, non certo per le mie idee, le mie idee a un certo punto mi si sono schiarite, ammetto, con un enorme colpevole ritardo, mi si sono schiarite su una spiaggia della Liguria, nello specifico Bagni Marinella di Laigueglia, dove a un certo punto, bello sereno come tutte le stati, capita che a un certo punto leggi una cosa, non mi ricordo neanche cosa stavo leggendo, un giornale finanziario inglese, se non mi ricordo male, ma a un certo punto mi si è riordinato tutto in testa di pezzettini che avevo visto, intuito, ma che non avevo ancora messo assieme. A un certo punto c'è quella vite che quando la stringi poi dopo tutto il motore comincia a girare. E quindi ero lì, bello sereno e Bagni Marinella, alla Liguria con i bambini che mi stavano girando intorno, fra l'altro sono qua anche oggi, oltretutto è incredibile, avere i figli che vengono a sentire un discorso del papà per me è incredibile perché è compleanno di mia figlia e volevo assolutamente, 11 anni e volevo assolutamente come regalo per compleanno venire a vedere l'acquario di Genova e quindi, benissimo, come faccio io, scusa, vado a Genova, vado a Genova a fare una circonferenza come ogni tanto dicono e poi vuoi vedere l'acquario, ti porto volentieri. Benissimo, io da quel momento lì non ho più riposato perché, come dice Salvini, vedi un incendio, non è una roba stranissima dire oh ma guardate cosa sta succedendo, invece quello che è successo, ho visto un incendio, ho cominciato a gridare oh ma attenzione guardate che brucia e dall'altra parte c'era gente che diceva ma no è il riscaldamento, brucia, no ma non ti preoccupare, è l'illuminazione e a quel punto veramente ho cominciato a preoccuparmi perché dicevo o sono tutti matti oppure c'è qualcosa sotto, in tutte e due i casi non mi va bene, alla fine gira tutti e tutti e beh sì però forse hai ragione, però caspita fra un po' ci sono le elezioni, il tema diventa divisivo, divisivo. Uno solo mi ha ascoltato, Matteo Salvini da Milano, un solo partito si è messo anima e corpo a fare quello che normalmente un partito deve fare, cioè vedi un'emergenza, quell'emergenza la devi risolvere, metti delle priorità. Qui siamo a Genova ed è patria di Grillo Giuseppe, io sono andato a parlare con il Movimento 5 Stelle perché mi sembrava che anche loro un po' queste tematiche sulla moneta, sull'euro un pochettino ci capissero, sono andato a parlare alla Camera e ho detto bisogna mettere delle priorità, vale a dire, gli scontrini possono essere una cosa interessante, la casta, le auto blu, tutte queste cose che bisogna inseguire, per carità, non dico mica che non vanno male, ma in questo momento qual è il problema italiano? La disoccupazione, la gente non lavora e dalla gente che non lavora discendono tutti una serie di altri problemi piuttosto gravi, per esempio ci sono sicuramente alcuni pensionati qua fra di voi, i pensionati che sono qua si sentono sereni oppure forse hanno qualche leggero sospetto che fra un po' le proprie pensioni magari potrebbero non essere così tanto sicure, bene, fanno bene a preoccuparsi perché le pensioni sono pagate dai contributi di quelli che lavorano, se la gente non lavora, non ci sono i contributi, le vostre pensioni non ve le pagheranno più, mi spiace essere brutale, non sto facendo terrorismo, adesso siamo all'incirca sui 40 miliardi di differenza, 40 miliardi all'anno di differenza fra quanti sono i contributi pagati e quante sono le pensioni versate, solo un idiota pensa che si può andare avanti così e la disoccupazione continua a salire, e non solo, attenzione, perché la disoccupazione è come una grande nave, non è che io posso schioccare le dita e farla smettere, bisogna fare, se vedi che stai con una petroliera che sta andando contro qualcosa, fai macchina indietro, ma prima che la direzione di marcia si inverte, ce ne vuole, ci vogliono anni perché una tendenza alla crescita della disoccupazione si arresti, bisogna iniziare ieri a porre rimedio, perché se no non tiene più il sistema sociale, e le tasse, uno dice il problema sono le tasse, ma certo, il problema sono le tasse, ma cosa credete che non sia legato anche quello al lavoro? Normalmente se c'è uno Stato che cresce, uno paga la sua quota di tasse smadonnando dalla mattina alla sera, però in ogni caso ha un'attività che cresce, il negozio è pieno, e alla fine uno, non dico che è contento perché non le paga mai volentieri, però pensa ad altro. Ecco, se non c'è più lavoro, se la gente è disoccupata, tu non solo da quelli che sono disoccupati le tasse non le incassi più, ma gli devi anche pagare la cassa integrazione, tutti quei sussidi o qualcosa del genere che il nostro sistema un po' sghembo prevede, ecco, chi credete che li paghi questi sussidi o la cassa integrazione o quello che non viene in generale pagato da chi normalmente lavora? Sempre da voi, ma non lavoro, come faccio? Molto banale, vanno a prendere i risparmi, vanno a prendere la casa, perché se non c'è lavoro ti prendo i soldi da un'altra parte, e allora diventi colpevole se hai una casa. E sono bravissimi anche nel fare tutta una bella retorica, tale per cui se tu hai una seconda casetta da qualche parte al mare, sei un ricco. A un certo punto si sono fermati con la rendita catastale, cos'era quella storia che diventava ricco se uno aveva una rendita catastale di casa superiore a 1700 euro, cioè 40 metri quadri, ricco. Perché? Perché devono prendere i soldi. Ma a un certo punto cosa succede? Se uno ha magari la casetta e non ha lavoro e vede che gli arrivano delle tasse pazzesche, la casa cosa fa? La vende. Altra legge economica stranissima, se domanda e offerta, se io prendo e arriva più gente che vende qualcosa, il prezzo di quella cosa cosa fa? Scende. E quindi noi ci inceneriamo le nostre ricchezze, andiamo a pagare delle tasse su una roba che poi non vale più un tubo. Quindi è tutto collegato alla disoccupazione. E allora io ho detto, caro Grillo, cari rappresentanti, vogliamo parlare un po' di euro perché come sarò a dimostrarvi in breve tempo è la causa principale della disoccupazione. Vogliamo fermare questa cosa così almeno fra due anni, non domani, fra due anni, fra tre anni. Significa che invertiamo la rotta definitivamente e cominciamo a crescere, cominciamo a produrre lavoro e usciamo da questo incubo. Risposta, dopo che io gli ho detto, guardate, sono andato alla camera e ho detto, brutale, eh? Ho detto, signori, non crediate che fare sempre le cose giuste ti salva da azioni criminali. Perché se io vedo uno tirato sotto dalla macchina che ha bisogno di soccorso immediato, e dall'altra parte vedo la cartaccia per strada, non è che tirar su la cartaccia per strada e buttarla via, che è un'azione buona in sé, mi scusa perché non ho salvato quello che sta morendo. Ci vogliono delle priorità. Quindi se tu ti occupi dello scontrino ma mi lasci perdere il disoccupato, stai facendo un crimine. Così gli ho detto, in modo tale che si capisse bene cos'era l'intento, che non ci fossero giri di parole. risposta prima dobbiamo fare la rivoluzione culturale. Ah però, allora, nel mentre che loro sono occupati a fare la rivoluzione culturale, noi abbiamo della gente che si suicida dalla mattina alla sera, noi abbiamo dei disoccupati, noi abbiamo delle aziende che chiudono, queste aziende che chiudono poi non riaprono più. Sono dei patrimoni di secoli che chiudono. Abbiamo la gente che emigra. Pensate che affarone che facciamo, no? Allora, Salvini va da Augusta per cercare di fermare quelli che arrivano dal Nord Africa. i nostri giovani invece vanno via, perché qua non c'è lavoro. Ma meraviglioso. i migliori se ne vanno e arrivano quelli là. E anche di quelli che arrivano poi dopo, quelli che magari sono passabili se ne vanno su in Germania a cercare lavoro. E qui chi rimane? I delinquenti. Quindi, è tutto collegato. Eppure non ho avuto nessuna sponda. Non ho avuto nessuna sponda da loro, perché dicono ma sì, faremo il referendum. Stai pigliando per il culo la gente, perché il referendum non si può fare. Non si può fare. Poi, se veramente volevi fare il referendum, magari potevi fare come sta facendo la Lega che sta raccogliendo delle firme. Prova. Vuoi veramente vedere il tuo blef del referendum sull'euro? Mettiti in piazza, raccogli le firme per fare il referendum sull'euro e poi vai a vedere se te lo approvano. Figurarsi. La Corte Costituzionale che è quella che deve decidere se si può fare il referendum ma l'ho messo a mato. Scusate ma me la rido. Già non si può. C'è la Corte Costituzionale a mato. Ma figurarsi, non farebbe fare il referendum neanche per abolire l'ingresso di casa sua. Adesso veniamo però perché è una priorità. Perché magari io sono convinto che legittimamente fra qualcuno in mezzo a qualcuno di voi ci dice sì, è vero l'euro ma io non ho mica tanto ben capito perché è così grave. Magari le sono le tasse, magari se noi eliminiamo la corruzione, tutte queste cifre che ti danno, magari se noi eliminiamo la casta. Ecco, ho un testo di economia di economia fra i più complicati del mondo qua da farvi leggere. Famiglia cristiana allora famiglia cristiana del 96 dopo qualche anno dopo in cui noi avevamo ripreso la moneta corretta vale a dire uscendo dallo SME e lasciando che il mercato stabilisse il prezzo corretto della moneta. Eravamo in crisi ci avevano messo lì ci avevano messo esattamente tutte le stesse cose che ci stanno mettendo adesso come ha ricordato Salvini alla fine usciamo Ceramonti io ho qui tutto un archivio che poi dopo se volete ce lo guardiamo ho qui tutto un bel archivio di Repubblica dell'epoca dove davano le soluzioni per venire fuori da questa crisi esattamente le stesse cazzate che si sentono adesso vale a dire svendiamo facciamo le privatizzazioni vendiamo le aziende statali così intanto uno si fregava le mani pensando ai contratti che avrebbe preso per poi fare la svendita agli amici e gli amici degli amici soprattutto c'erano quelli proprio più spuderati come Monti che dicevano diamo via l'oro diamo via l'oro io sono qui che non vendo i prodotti vendo l'oro ma di che cosa stai parlando? no invece poi alla fine fortunatamente salto tutto questo nel 96 inchiesta emergenza lavoro e quindi allora uno dice Borghi mi stai dicendo delle musse come dicono da queste parti hai visto hai svalutato hai riportato sei uscito dallo smè e c'è inchiesta emergenza lavoro quindi è ancora uguale adesso al nord non c'è gente la fame di mano d'opera sprona le aziende a setacciare addirittura le scuole medie e inferiori qui la tentazione di uno stipendio già a 14 anni è fortissima racconta un preside assessore di Schio disoccupazione? non scherziamo qui non starebbe a casa nessuno neanche se fallissero contemporaneamente tutte le nostre aziende la sete di mano d'opera è così alta che le ditte vanno a caccia di operai perfino nelle scuole medie in poco più di un anno mi hanno fatto visita a quattro piccoli imprenditori chiedendomi nomi di allievi poco propensi a continuare gli studi ma cosa credete che se adesso venisse fuori un articolo del genere prendono il direttore e lo bruciano in piazza non erano balle e cos'è successo? sarà forse che avevano sarà forse che la moneta col lavoro qualcosa c'entra eh? sarà forse che magari c'è un piccola relazione fra la moneta e la disoccupazione proviamo a immaginare una cosa adesso cerco di piantarvi dentro un po' di concetti e poi dopo in omaggio all'avvocato Donato cerco di andare un po' anche sul futuro per vedere come che cosa succederà però un po' di concetti ce li piantiamo in testa così poi dopo siamo tutti d'accordo la moneta probabilmente qualcuno di voi dice ma sì ma la moneta che cavolo serve come fa a creare disoccupazione è una roba che uso per pagare le robe sì quello è il metodo di pagamento il metodo di pagamento all'interno di una comunità è una roba che risale a non troppi anni fa 2500 circa ma prima non c'era prima della moneta che cosa c'era vedete queste belle robe che vi che vi fanno credere allora è incredibile non ci sono mai tante cose piene di falsità ormai messe in testa nella 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 capa della gente quanto l'economia io me ne sono accorto tardi anche in questo caso insegno all'università da un certo numero di anni e poi a un certo punto ogni volta mi viene il sospetto che gli studenti forse abbiano perso qualche nozione di base ecco quella del baratto quella del baratto ve l'hanno raccontata tutti e com'è che era allora io sono uno che fa le focacce però ho bisogno del latte allora alla mattina vado dal lattaglio gli do la focaccia e lui mi da il latte però può essere che quel giorno lì lui non abbia voglia della focaccia e allora mi dice no guarda vorrei il prosciutto benissimo allora devo andare in giro a cercare uno che vende il prosciutto no e che vuole la focaccia ma vi sembra che il mondo anticamente era fatto di di gente che ruotava come dei cretini dalla mattina alla sera per tutta la città andare a cercare qualcuno che vendeva il prosciutto della focaccia della della cosa ma si dovevano spaccare la schiena nei campi ci avevano andando un po' più indietro c'erano le tigri con i denti a sciabola che li inseguivano non è che avevano tempo di fare il girello per il paese per andare a vedere chi è che aveva bisogno di una cosa o quell'altra il baratto non esiste togliamocelo dalla testa non c'era il baratto se noi domani adesso arriva una radiazione cosmica no e incenerisce tutte le monete tutte le carte di credito che voi avete nel portafoglio via no i conti ci sono cioè non è che siete diventati tutti poveri ma lo strumento di pagamento svanisce e cosa fa? si blocca il mondo voi andate dal macellaio e il macellaio non vi dà la carne perché voi non siete in grado di dargli immediatamente il mezzo di pagamento cosa sta lì? marcisce il macellaio si tiene la carne a marcire pur di non darvi qualcosa fa una cosa banalissima che è stata sempre fatta dalla notte dei tempi segna arriva specialmente nelle piccole comunità quando tutti si conoscevano tutti segnavano e poi man mano quando uno aveva bisogno delle scarpe del calzolaio tirava giù una riga sulle cose che gli dovevano sempre è stato così la moneta serviva proprio per evitare questi conti che uno tenesse troppo a mente che cosa doveva questo, questo e quest'altro in sé per sé quindi quella moneta lì intesa come scambio interno a una comunità non crea lavoro non lo distrugge non è causa di disoccupazione è un metodo di pagamento dove diventa un pochettino bastarda la cosa diventa quando a un certo punto tu fai confronto del valore della tua moneta con quella degli altri allora lì la musica cambia perché se noi abbiamo la lira e i francesi hanno il franco e da noi un ombrellone con due lettini costa 20 lire e in Francia un ombrellone con due lettini costa 20 franchi e una lira è uguale a un franco le due cose sono indifferenti io posso andare in Francia se mi piace di più la spiaggia francese il francese può venire qua se mi piace di più la spiaggia ligure e il costo delle due cose è la stesso ci siamo? se per ipotesi la mia moneta diventa forte questo aggettivo stupido che hanno messo in testa per confonderci e quindi una lira diventa del valore di due franchi noi al momento ci sentiamo dei fighi perché diciamo caspita siamo entrati in serie A abbiamo la monetona ecco per l'italiano che cosa costa l'ombrellone con due lettini in Francia invece che 10? 5 ok? quindi se qua costava 10 la costa per noi costa 5 quanto costa l'ombrellone per il francese? 20 il doppio perché con la sua moneta ne può comprare due cioè la sua moneta purtroppo con un franco compra mezza lira e quindi deve dal suo punto di vista costa 20 quindi lui comincerà a stare un po' di più in Francia tu comincerai a stare un pochettino di più in Italia se c'è la differenza di prezzo e beh scusate tutti prendono e vanno dove costa di meno non è che il Ligure che a un certo punto ha questa monetona tale per cui il suo lettino invece di costare 10 costa 20 per tutto il mondo è diventato improvvisamente inefficiente non è diventato corrotto non è diventato incapace di gestire una spiaggia o cose di questo tipo il prezzo è sbagliato e quindi cosa succede? tutti prendono e vanno in Francia perché costa di meno sono contenti perché risparmiano come potere d'acquisto e in Liguria si crea giusto questa strana cosa che è la disoccupazione perché se nessuno viene più a prendere il mio prodotto oppure a provare la mia attrattiva turistica o qualsiasi cosa io produco in casa qua da noi non lavoro cosa succede col porcellino sardo? questa cosa qua cioè se alla fine io mi trovo una moneta che è tedesca significa che il porcellino prodotto in Germania o in in Olanda costa pochissimo dal mio punto di vista e lo vado a comprare là se lo vado a comprare là il sardo è disoccupato tutto il cibo il pesto quando uno prende perché c'è questo fenomeno del pesto contraffatto fatto in Olanda fatto in Germania così questo tipo ma che senso ha no a prendere fare il pesto falso o la pasta falsa o il parmigiano falso come spesso ci vengono a dire che senso ha è più buono il nostro perché uno dovrebbe andare a prendere quello là costa di meno costa di meno se noi avessimo la nostra moneta voi immaginate quanto potrebbe essere la svalutazione rispetto alla moneta attuale di una moneta italiana boh 30% ecco 30% in meno di prezzo per il resto del mondo 30% in meno di prezzo per il resto del mondo significa che più gente compra i nostri prodotti e significa che noi compriamo meno prodotti degli altri è banale e se noi compriamo meno prodotti degli altri e gli altri comprano più nostri prodotti il negozio si riempie la fabbrica non chiude e se la fabbrica non chiude non ho meno disoccupati se ho meno disoccupati le pensioni sono più tutelate perché a quel punto c'è più gente che paga contributi e tutto ricomincia così come ricominciava nel 96 non è cambiato non è che uno dice c'è la Cina o cose di questo tipo ma la Cina non ti fa mica concorrenza alla spiaggia sono delle cazzate queste cose che vi dicono c'è la Cina certo può essere che siano cambiate alcune alcune aree di competizione ma nella stragrande maggioranza dei casi la nostra competizione è vicina a noi abbiamo la gente che va in vacanza in Egitto abbiamo la gente che va in vacanza a Santo Domingo abbiamo la gente che va in vacanza in Costa Azzurra e non viene in Italia non è che è diventata più brutta l'Italia eppure è così è tutto collegato e poi va considerata questa simpatica cosa che avere una moneta sbagliata porta che si creano dei rapporti di debito e credito paurosi perché perché chi vende di più vale a dire il tedesco accumula soldi in casa ogni volta che noi compriamo una BMW dicendo te va guarda che bello una volta se la potevano permettere solo i ricchi adesso siamo a posto compro la BMW la BMW i soldi vanno a Monaco a Monaco si depositano in una banca per una banca i soldi depositati sono un debito lo sappiamo li deve impiegare da qualche parte e allora cosa fa? presta lo spagnolo lo spagnolo cosa fa? bello felice fa una casa la Germania felicissima gli manda giù le sue ruspe gli manda giù i suoi prodotti d'arredo il suo frigorifero la sua televisione e così via tutto tutto felice tutto a posto peccato che a un certo punto questo ciclo si interrompe perché lo spagnolo si trova disoccupato nel momento stesso in cui la Germania smette di mandargli giù i soldi è come se la Germania avendo messo debiti in tutta l'Europa avesse in mano tante morse su cui stringere le palle della gente a quel punto lì che cosa succede scusate le signore mi perdoneranno l'immagine colorita ma alla fine è quello perché se loro sono creditori e tutti gli altri si sono indebitati perché hanno preso a prestito troppi soldi e mi hanno preso a prestito loro troppi soldi colpa di chi gliel'ha prestati se a me vengono a regalare dei soldi io li prendo e poi non è che quello che poi me le ha prestati può rompere più di tanto le scatole la volta che non gliele do fa parte dei rischi ecco nel nostro caso meglio ancora questi debiti dei paesi della Grecia del Portogallo dell'Irlanda della Spagna nei confronti della Germania li hanno messi sul nostro conto perché c'è stato qualcuno lo vogliamo un po' chiamare un po' criminale che ha ben pensato non appena che non appena la Germania ha suonato la sua campanellina dicendo devo rientrare dai miei crediti facciamo pagare mettiamo sul conto del condominio a quel punto ci voleva il cameriere che firmava allora il cavaliere non andava bene perché tanto non capiva che cosa stava succedendo questo è certo ma da non capire all'essere servizievole a firmare secondo me ce ne passava un po' probabilmente in Germania dicevano ma quello è strano fa cucù cose di questo tipo metti che poi non firma firma con l'inchiostro simpatico cose di questo tipo ci vuole uno affidabile allora levano di torno quello là e mettono l'esecutore l'esecutore firma e però questa firma ratificata da una legge ha comportato che noi scusate non sto dicendo famiglia cristiana del 96 sto dicendo corriere della sera di settimana scorsa che vi dice che il nostro bilancio sarebbe stato in pareggio l'anno scorso se non ci fossero stati i pagamenti ai fondi salva stati quindi significa che se la matematica non è un'opinione dato che abbiamo il famoso 3% di deficit e che 1% di deficit è 15 miliardi significa che sono stati pagati 15 30 45 miliardi a fondi salva stati uno stato non paga 45 miliardi con cui ti facevi d'oro la Liguria non paga 45 miliardi se non si vota una legge per tirarli fuori perché bisogna andare a vedere le responsabilità del motivo per cui siamo finiti in questa situazione non ci finiamo da soli non è che ci finiamo per modi inevitabili si finisce per colpa di qualcuno questa legge che ha consentito di mettere i crediti della Germania sul conto del condominio si chiama meccanismo europeo di stabilità o messi o fondi salvastati questa legge qual è il partito che ha votato questa legge in Parlamento tutti facile tutti tutti meno uno Lega Nord e poi uno dice ma perché ti va a impegnare con la Lega Nord che sono brutti e cattivi perché sono gli unici onesti che non hanno fatto questo crimine nei confronti dell'Italia di farci regalare 45 miliardi a fondo perduto a fondo perduto eh per ripianare crediti non nostri e qui adesso veniamo al futuro vale a dire ci sarà l'inflazione se noi usciamo allora l'inflazione questa cosa che vi agitano come spauracchio sembra che uno devo mettere a nanni i bambini e dice guarda che se non spegni la luce ti arriva l'inflazione allora l'inflazione che negli anni 80 quando tanti di noi hanno costruito le loro fortune era due cifre perché non creava problemi per un motivo semplice perché il potere d'acquisto della gente è data dallo stipendio dal reddito che incassa diviso i prezzi se i prezzi aumentano del 10% ma lo stipendio aumenta del 20% per noi i prezzi diminuiscono quindi sembra che ci sia l'inflazione ma i prezzi reali scendono se io prendo un operario adesso dice non c'è l'inflazione giustamente Salvini dice ma io me ne frego se sono disoccupato del fatto che c'è l'inflazione vedete quanta semplicità perché uno dice forse sono troppo semplici le cose di economia sono semplici sono date da quello che succede ogni mattina quando ci svegliamo ero in televisione con un soggetto che si vanta di essere professore di chissà dove che diceva se ci sarà l'inflazione vedi che aumenteranno i prezzi e fa la formuletta dove mette il reddito sopra e i prezzi sotto e io ho fatto una cosa banale ho tirato una riga sopra il reddito sopra e gli ho messo zero gli ho detto se il reddito è zero secondo te di quant'è l'inflazione della gente se io non guadagno niente a me se i prezzi sono fermi che cosa mi cambia immaginate il caso famoso il caso Electrolux se io sono un operaio dell'Electrolux e mi dicono devi dimezzarti lo stipendio altrimenti via a casa e accetto questo infame ricatto e beh le cose sono molto semplici io dal giorno dopo i miei prezzi sono il doppio anche se per normalmente il cartellino del prezzo nel negozio non è cambiato ma è evidente che se io guadagnavo mille e dopo mi trovo a guadagnare 500 il caffè invece di costarmi uno mi costa due dal mio punto di vista è così la mia rata del mutuo prima era 300 guadagnavo mille magari ci stavo dentro sempre 300 guadagno mille guadagno 500 non ci sto più dentro a meno di non far la fame andare in giro con l'organetto alla sera quindi noi pensiamo qua nella nostra sala se guadagnavamo di più cinque anni fa o sei anni fa o guadagniamo di più adesso secondo me molti di noi pensano che probabilmente guadagniamo di meno adesso rispetto a cinque anni fa o sei anni fa o sette anni fa ecco dato che abbiamo sperimentato sulla nostra pelle nel nostro caso è come se i costi degli oggetti costassero di più quindi se io riesco a far ripartire il reddito a me dell'inflazione non me ne frega nulla devo far ripartire il reddito e tra parentesi l'inflazione parte quando la gente compra cose perché non è che se oggi il commerciante raddoppia il prezzo che c'è sul coso allora vabbè ha alzato i prezzi no non le vende le cose molto banalmente per cui l'inflazione non è un problema le tecnicalità come facciamo si esce con cambio uno a uno questa è una cosa che la gente ancora secondo me non ha capito c'è una differenza sostanziale fra cosa sarà il valore di mercato contro le altre monete e cosa sarà il tasso di conversione il tasso di conversione ce lo decidiamo noi ma non è che perché sto dicendo una cosa assurda perché è così ce lo decidiamo noi perché è un atto amministrativo non è una questione di mercato posso scegliere se cambiarli 5 a 1 20 a 1 327,2 a 1 quando hanno cambiato la lira con l'euro hanno fatto 1936,27 che già si capiva in che gabbia di matti andavamo a finire cioè già siamo con la lira no ti cambiano 1326,27 e d'altra parte le negoziazioni per decidere quel cambio lì le faceva al mortadella quindi immaginate voi che figata ecco noi cambiamo uno a uno per un motivo banale è più comodo domani quando noi usciamo dall'euro e usciremo quindi fateci l'abitudine perché questa qui non è un delirio di uno che vi sta parlando adesso qua a sala minor consiglio questo è quello che succederà perché il sistema non si tiene e lo vedrete ci rivediamo qua quando succederà ma succede non può non succedere quindi vi sto semplicemente anticipando così vi preparate non può essere che non succeda viene cambiato uno a uno i cartellini dei prezzi non si modificano nemmeno il mutuo 300 euro diventa 300 ducati il caffè un euro un ducato il barbiere 20 euro 20 ducati non ce ne accorgiamo nemmeno dov'è che cambia? cambia in rapporto alle altre monete dato che come giustamente mi veniva ricordato quando usciamo dall'euro tutto si disgrega l'euro non rimane dopo che noi usciamo l'euro sta in piedi finché noi facciamo gli ufficiali pagatori quando abbiamo finito di farci far fessi a quel punto l'euro si disgrega esce l'Italia l'euro non rimane quindi significa che noi in rapporto alle altre monete a qualcuna rispetto a qualcuna avremo di meno rispetto a qualcuna avremo di più rispetto alla dracma greca avremo di più rispetto al marco tedesco avremo di meno e ritorniamo in equilibrio significa che se uno vuol fare delle vacanze un po' economiche magari se ne andrà in Grecia significa che il tedesco verrà qua a fare le sue di vacanze e significa che a quel punto non ci starà neanche tanto più sui coglioni il tedesco perché avrà finito di mettere su una zazzo a casa nostra e quindi lo potremo riaccogliere da amico non da rivale perché questo è quello che ha fatto l'euro ci ha messo in rivalità l'uno con l'altro non ce l'hanno detto non ce l'hanno spiegato ma è così se vi dicevano entriamo nell'euro e quello che succederà sarà che noi dobbiamo battere la Germania dal punto di vista industriale se no altrimenti siamo morti secondo me un po' ci pensavamo su prima di entrare perché la Germania qualche numero dal punto di vista della gestione dell'attività industriale del paese ce l'ha tenuto presente che noi siamo una media c'è magari la Liguria magari la Lombardia che potevano stringendo i denti pensare di farcela ma non ce l'avrebbero fatta secondo me in ogni caso e dall'altra parte c'era Sicilia c'era la Sardegna che dovevano essere mantenuti era un equilibrio il nostro questo mantenimento delle regioni del sud ci consentiva dall'altra parte di avere da una parte un mercato di sbocco per i nostri prodotti quindi la roba fabbricata qua a Liguria tante volte veniva comprata da uno del sud e la moneta era vantaggiosa perché la lira non era alta come sarebbe stata se fosse stata una lira del nord ma era una media e quindi vincevamo su tutti i mercati sghembo come equilibrio sì sghembo sghembo perché lo sapete scusate adesso qui non è che sto facendo delle rivelazioni assurde però riposizioniamo tutto quello che credavamo di avere o credavamo di essere se io ero uno del nord come ero un industriale Ligure un negoziante dell'Emilia un imprenditore del Veneto e cose di questo tipo e mi trovavo in una situazione dove avevo una moneta di vantaggio vale a dire una lira una moneta più bassa che mi consentiva di vendere i miei prodotti con lo sconto ma delle tasse altissime perché dall'altra parte dovevo mantenere il sud sussidiato cos'era il comportamento non particolarmente etico ma ottimo dal punto di vista della comodità personale evadere ce lo diciamo cioè nel senso qui abbiamo tutti pagato le tasse io poi sono dipendente da sempre quindi ok però dall'altra parte se io prendo e metto troppe tasse sul groppone a uno che sta andando bene con gli affari la tentazione di evadere gli viene ok se questi soldi raccolti da quegli eroi che poi in ogni caso andavano avanti a pagarne quanto meno un po' le tasse ma sempre di più di quelle che era necessario pure evadendo un po' venivano canalizzati giù al sud e c'era un califo che li doveva distribuire cioè i vari cuffaro e compagnia bella che distribuivano poi dopo i soldi cos'era il comportamento razionale per l'uomo d'affari della Sicilia fare il mafioso mi spiace ma è così era logico prendere e fare una fabbrica no sei fuori mercato hai una moneta troppo forte per fare prodotti e allora c'è uno che arriva un flusso di soldi e li distribuisce una persona sola lo prendi sotto braccio e gli dici amico caro adesso ti dico io dove li devi dare quei soldi lì così era l'Italia sghembo come sistema però intanto andava avanti un equilibrio strano che si teneva in piedi che ci consentiva di competere di essere fra i primi al mondo significa che quando noi riprenderemo il possesso delle chiavi di casa dobbiamo ritornare come prima è una scelta io personalmente sistemerei tante cose anche in casa per evitare di dover ritornare avere questi difetti che c'erano anche precedentemente tanto è vero che anche se non la metto sul tavolo perché prima per fare qualsiasi cosa devi riprendere sovranità monetaria poi ci si pensa sul fare bene le cose ma si informa bene la gente sia al nord che al sud al sud e gli si spiega guarda che se noi sistemiamo questo sistema che avevamo prima non arrivano più soldi dal nord però avrai la possibilità di fare lavoro vero non lavoro inventato sinne consapevole al nord gli si dice guarda che ti verranno abbassate le tasse e non dovrai più fare trasferimenti al sud ma guarda che ti sarà molto più difficile competere sui mercati internazionali rischi che il tedesco ti faccia un paiolo così basta saperlo a un certo punto uno sa i pro e i contro e poi dopo sceglie in modo informato quindi non è detto che l'Italia futura dovrà essere uguale a quella passata io conto ovviamente che venga fatta meglio venga fatta da persone motivate venga fatta da persone oneste come Matteo Salvini allora a quel punto avremo modo di poter ricostruire un paese ma adesso come adesso la nostro destino è solo la morte industriale economica e personale perché ci stanno uccidendo la speranza nel momento stesso in cui noi non abbiamo più la possibilità di crescere non abbiamo più un futuro noi moriamo dentro ed è questo che non mi fa dormire ed è questo che mi fa girare l'Italia indipendentemente dal fatto che io possa essere candidato qui e non in Sardegna o cose di questo tipo vado in giro perché non mi interessa niente della mia candidatura che semmai è una conseguenza rispetto al lavoro cominciato insieme ma mi interessa che la Lega Nord e che l'alleanza contro l'euro per questa Europa per una volta vinca perché non possiamo lasciarli più fare i comodi loro vi ringrazio ma vi lascio un ultimo avvertimento perché bisogna essere vigili così come ci hanno fatto fessi nonostante il voto contrario della Lega ma in ogni caso hanno approvato il il MES e quindi ci hanno fottuto 45 miliardi adesso stanno preparando il colpo grosso significa che il signor Renzi che è esatta continuazione del lavoro di Monti e di Letta Letta è stato levato di torno in fretta perché è troppo incapace persino di fotterci soldi quindi allora hanno detto mettiamo questo qui che ride e magari riesce a farli fessi meglio rispetto rispetto perché quell'altro era improponibile il primo si capiva subito che ti fregava il secondo era scarso allora adesso abbiamo questo che è più pericoloso di tutti gli altri questo zitto zitto ridendo con le battute con stai sereno e già si capisce da come gestisce i suoi quanto spregiudicato è questo essere questo simpatico soggetto del stai sereno sta preparando due cose che sono l'arma finale la riforma del titolo quinto che a voi non dice nulla ma significa stringendo che lo Stato potrà mettere le mani su tutti i beni statali su tutti i beni comunali provinciali regionali e anche su qualsiasi tipo di autonomia residua uno può avere dal punto di vista patrimoniale quindi lo Stato può prendersi i palazzi regionali e comunali qui di Genova e annetterseli e una cosa che si chiama ERF state molto attenti ogni volta che sentite ERF European Redemption Fund e cose di questo tipo cos'è? è una garanzia reale al debito quindi significa che verranno dati in mano alla Germania un pegno sul nostro debito che non è richiesto perché nessuno al mondo mette una garanzia reale sul debito pubblico perché normalmente c'è una banca di Stato che lo garantisce di suo viene messa una garanzia reale al debito quindi significa che tutti questi beni verranno presi e messi a garanzia del debito ovviamente il secondo dopo falliranno ci verremo fatti fallire e faranno piazza pulita questo ERF prevede anche pensate un po' che a garanzia del debito per gli altri venga data una quota delle vostre tasse future immaginate vi vuol mettere già un'ipoteca su quello che pagherete in futuro sulle tasse da dare agli altri ecco questo sarà il colpo finale quindi signori quando vedete qualcuno che vota il PD non è una questione di opinioni eh non è di dire vabbè ma io preferisco questa cosa preferisco più tasse invece che meno più spese invece che meno tasse o un legittimo tipo di diversa gestione dello Stato rispetto rispetto ad altri sta mettendo in pericolo il futuro vostro e i vostri figli dovete spiegarglielo perché io sono convinto che ci sono tante persone che votano PD o PDL anche che non sta capendo PDL non capiscono suppongo di cosa sta succedendo comunque principalmente il PD che sta portando avanti questa cosa sono convinto che ci sono tanti in buona fede che sono ancora convinti di votarlo perché i lavoratori perché è una bella cosa perché mi sento a posto la coscienza attenzione sto giro è diverso stanno fotendosi tutto allora dato che stanno fotendosi tutto e poi dopo non lo riprendiamo più mi raccomando dovete andare in giro a spiegarle queste cose spiegarle spiegarle e non aver paura che uno le vada a controllare dicendo mi stai dicendo una bugia perché andranno a controllare e troveranno che sono vere quindi per questo il 25 è molto più importante del solito sondaggione che sono le europee bisogna mettergli un punto fermo a questi signori perché poi è troppo tardi vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti